Sette donne è un mistero Nulla ovviamente Ti posso dire che il vero mistero sono loro, sono le sette donne Lo sono sempre, è il mistero più profondo, più bello e più intrigante sicuramente le donne in generale Quindi è il film giusto mi sa Raccontaci di te, cosa stai facendo, i tuoi prossimi progetti I miei prossimi progetti sono andare avanti su quello che sto facendo Cioè una bella pausa costruttiva e intanto ci guardiamo il film Ci vuole, ci vuole Vero, vero Grazie Lisa Ciao Grazie Grazie Grazie